Un bosco germogliato negli spazi della caserma militare e che sarà messo definitivamente a dimora ad ottobre all'alberghiero Santa Marta. Punto di partenza ed arrivo che avrà in mezzo cinque mesi di un bosco che cammina. Questo è il titolo del progetto nato nel solco del tema La natura della cultura di Pesaro 2024 che porterà un'imponente installazione di 100 fra alberi e arbusti a spostarsi fra alcuni luoghi simbolo della città. A cominciare da Piazza del Popolo dove il bosco comincerà a stazionare da sabato 20 aprile. Un progetto ideato e coordinato dal consigliere comunale Michele Gambini è affidato operativamente ad Aspes attraverso l'architetto paesaggista Olga Mosquina. Sono 100 piante grandi, per intenderci la più alta, arriva a sei metri e mezzo con il vaso e tutto. Sono messi in vasi anche quelli di dimensioni molto significative, di un metro cubo, studiati apposta per questa esperienza che servono a tutelare la pianta dagli sbalzi di temperatura, dalle variazioni troppo repentine di umidità. Queste piante occuperanno spazi della città per 5 mesi e saranno spostate periodicamente con una festa di popolo. 100 piante che occupano uno spazio fisico creano un luogo, un luogo diverso che non esisteva e dentro questo luogo accadranno delle cose di matrice culturale naturalmente. L'idea fondamentale è che l'elemento vegetale, irrompendo in uno spazio che non è normalmente abitato dalla vegetazione, lo trasforma e è capace di reinventarlo e quindi questo vogliamo produrre. Naturalmente tutto questo deve produrre una trasformazione definitiva. Le piante, come è giusto che sia, a ottobre, quindi nel momento più opportuno per fare questa operazione, andranno a terra, specificamente nella pertinenza scolastica dell'Istituto Santa Marta che da luogo desertico, perché oggi parliamo di un suolo totalmente compattato e totalmente sterile, sarà rigenerato, lavorato, si porterà del compost dello stallatico e poi ospiterà queste piante. Quindi laddove c'è un deserto ci sarà un parco con delle aule verdi per la scuola, quindi una trasformazione anche di alto valore, come posso dire, pedagogico ma simbolico, ambientale e culturale. Ogni tappa del bosco che cammina sarà accompagnata da eventi culturali divulgativi curati dal direttore artistico Sergio Palladino. Il 28esimo reggimento Pavia ci ha ospitati e senza quella collaborazione non avremmo potuto farlo, è stata una generosità preziosissima. Usciremo dalla caserma sabato mattina e arriveremo in piazza, starà due settimane in piazza, poi via San Francesco, poi davanti al Mengaroni la pescheria nella piazzetta della creatività, poi di fianco all'auditorium Scavolini, poi speriamo in Calata Caio di Uiglio perché questa tappa in particolare è soggetta all'approvazione della Capitaneria di Porto e dell'autorità portuale con la quale abbiamo già un'interlocuzione però dobbiamo curare dei dettagli, poi la palla di pomodoro e infine a fine settembre andremo nella loro dimora definitiva.